Il Tar ha rigettato il ricorso presentato dalla ditta SAIL per la realizzazione di quello che viene comunemente indicato l'ex Megalo 2, un progetto che ha dei rischi idraulici e soprattutto contiene quello che è un rischio enorme, un danno socio-economico che già questo territorio, quel territorio di quell'area metropolitana ha avuto con l'alta concentrazione e la grande distribuzione. Un ricorso che mirava a controbattere una decisione del Comitato Via, una decisione molto corposa che il Tar ha ritenuto completa nella sua interezza sia per quanto la parte strettamente ambientale sia per quanto riguarda la realizzazione muraria. Credo che finalmente sia stata detta la parola fine a questa querelle che dura da troppo tempo. Credo che sia ora e giusto che i comuni di Chieti e Cepagatti intervengano per l'abbattimento dei manufatti realizzati illegittimamente, cioè privi di autorizzazione.